Io a Roma non prendo la macchina assolutamente, anche perché sarebbe impossibile circolare e quindi è in centro poi dover chiudere tre importanti stazioni senza neanche avere un'informazione perché io non sono riuscita a sapere, perché è importante essere informati, perché uno poi naturalmente prende le adeguate misure, ma ho dovuto chiedere, adesso sono venuta proprio dall'hotel Bernini per chiedere al portiere dell'albergo, ma mi scusi, ma perché sono chiuse le metropolitane, le tre stazioni delle metropolitane, per problemi tecnici, ma quale tipo di problemi tecnici? Sì, perché volevamo andare a Via del Tridone, soffrendo della fermata di Barberini, ma è impossibile. So che ci sono dei pullman sostitutivi, ma non so quanto possano essere comodi quante la metro. Sì, un po' lo sapevo perché l'ho visto sui giornali e quindi ne ho avuto notizia, di disagio un minimo li crea, io però uso di più la scala mobile che sale verso Villa Borghese che non la scala mobile della metropolitana, quindi sono disagi contenuti e d'altra parte le cose bisogna ripararle per evitare che capiti quello che ogni tanto capita alle scale mobili.